Se le cose non vanno come devono andare, ha specificato Sara, la colpa è di entrambi, io so di essere una persona complicata e particolare, ma non sono cattiva. Non siamo adatti l'uno all'altra, ho scelto Luigi, perché volevo scegliere lui e ci siamo sempre comportati bene nei reciproci confronti. È un bravissimo ragazzo. Ma se le cose non vanno, non vanno. Non sto qui a dirvi come, dove, quando e perché le cose non funzionavano. Io ho una mia idea di rapporto, e anche di come gestirlo con la persona, che voglio avere a mio fianco. Penso di non aver fatto mai del male a nessuno, io credo che i problemi in una storia, vengano fuori sempre dopo. So di essere una persona difficile e molto complicata, ma mi sono sempre mostrata per quella che sono. Infine l'ex tronista Chiosa. Io li sceglierei Luigi, al di là delle cose che non sono andate. E se vi devo dire la verità, a Ibiza non mi sono neanche divertita tanto perché mi è venuta la febbre e sono tornata prima. Questo perché? A volte non è sempre tutto come sembra. Con Luigi siamo rimasti in buoni rapporti e continueremo a sentirci, come due persone normali. Foto credits Instagram. .